mi sa che non vedi niente comunque saiano lì vedi saiano lì e io l'ho fatta l'ho fatta in macchina c'è una strada comunque che passa da sotto adesso mi sono fermato qua vediamo però il tempo non è anche un bel posto bisogna che vieni dai 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 io sono abbastanza lontano insomma puoi fare il percorso che puoi fare lì vedi c'è la torre medievale c'è questo questo calanque vedi con le bici lo fanno tranquillamente e io ho da fare un sacco di strada se in bici qua sono lontano però vedi ci può anche attraversare questo parco magari col metal trovi qualche min anti uomo qui ci hanno dato comunque puoi tagliare da lì sopra se non sotto c'è il parco se parco marecchia c'è marecchia saiano vedi sono malati adesso dai fatica a piedi che al mountain bike ci credi faccio fatica meno a piedi che comunque dai questa qui la strada asfaltata sotto c'è l'altra dopo magari ti faccio degli altri video dai vado a camminare un pochino vediamo un pochino di ma sai cosa anche nel casentino è bello